Oh, ci abbiamo posto al Brock contro, attenzione! No, quello combo non parte. Eh? Ma da onde è santa? Me l'ha detto! Fermate quello con Bea! Ma che cazzo sta facendo questo? No, ma ho sbagliato Gadget! No, non ci credo! No, il fail! Ho sbagliato Gadget! Nooooo! Come buttare una partita! E poi questo qua è pure bravo! Sì, ma ci abbiamo da una parte una Robby non proprio performante. Ma quello con Bea, ragazzi, è un coso... sta continuando a sparare la metà di abrice! Non mi hai fatto! Cos'è? Incolpibile? Mazzà! Ha dei movimenti stranissimi! Ma lo vedete che non si riesce a prendere? A parte che io ho sbagliato Gadget, ma lo vedete è assurdo! Oh, ma è incolpibile! Oh! Cioè, lo prendi una volta e poi non lo prendi più! Ma la seconda hit non la prendi! No, ragazzi! Ma come fa a saperlo? Non mi aveva visto! Come fa a schivare? E' impossibile, vi giuro! E' impossibile, lo sa! Sa dove sparo! No, vabbè, non ha senso! Non ha senso, ragazzi! Non ha senso! Non ha senso! No, è una connessione! No, questa è da segnalazione! Braun Styler! Se la bella si chiama Braun Styler è l'hacker! Ma porco due! Ma dai, non ci credo! Vabbè, allora lo segnalo! Aspettate che... Vabbè, intanto il gameplay ce l'ho recato qua, glielo passo... Cioè, ragazzi, non ha senso! Era imprendibile! Assurdo! No, ma fa era troppo veloce! Aveva proprio un gameplay diverso dal nostro! Guardalo! Cioè, li vedete i movimenti? Cioè, guardate che roba! Ma è passata in mezzo al colpo! Assurdo! Guarda che roba! Tu! 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 Cioè! E non riuscivamo a prenderlo! In due gli abbiamo sparato! Pure il panino! Vedi, qua non mi aveva palesemente visto, ma l'altro colpo era impossibile! Poi si aveva preso uno shot in mezzo a due cosi! Cioè, guardate come giocava! Cioè, al massimo potevi prendergli un colpo! Era impossibile prendere l'altro! Cioè, li vedete gli altri? Si vedono che sono normali! Cioè, guardatelo! Assurdo! Ma fa che schifo però, eh! No, no, ma... Oh! Cioè, raga! No! Oh! L'avete appena visto! L'avete vista la quantità di colpi che riuscite a schivare? Cioè, guardate quando è arrivato anche il Bo! Gli abbiamo sparato tutti! Guarda che roba! Tu! 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 C'è Matrix! E gli è arrivato anche Gesù addosso! Fa perdere le persone! E automaticamente, vabbè, fa free win agli altri! Ma non ha senso sta cosa! Ciao, ciao!